Finalmente foglio rosa, ma l'ho spento? No, eeeh Eh mo, che cazzo devo fare dietro a te? Tutto inutile Che glielo dice ma che te ne era prezzo accesa? Che glielo dice ma che te ne era prezzo accesa? No, che glielo dice ma che te ne era prezzo Me la rosa Ah, che erano prezzo? Prende l'ho, che erano prezzo sono sbagliato tutto ma di nuovo qua, ma di nuovo l'inferno niente, ma siamo di nuovo all'inizio no, non posso se mi è persa, vero? come ti fida? qua siamo, ma di nuovo non è perso ma vedo che questa lente non si è finita è salita qua è dietro qua ma infatti, ma stavo di genere eh, ma poi c'è andata di là ma qui c'è l'autostrada è l'autostrada? perché io mi ricordo che c'era una strada che andava giù è fusta, però non so se la possiamo andare ma come, male che vanno una multa ciascuno? beh, che hai detto? male che vanno? ma tu stai col foglio rosa, una multa ciascuno ha detto qua sono tipo la polizia, la municipale, un sacco di colpi non puoi camminare, non è Andrea allora io devo girare prima però adesso non possiamo più girare quindi penso che arriva al porto questa strada ma se la facciamo? va bene eh sbagliato a girare non fa niente, andiamo a Vietri andiamo a Vietri puoi chiedere a quel signore? ma cosa? vabbè, vado in avanti ma che cazzo di strada è hai visto dove ti ho portato? sì come cazzo hai fatto? quella mamma mia che paura hai visto dove ti ho portato? ma si capisce che cosa? che cosa? che cosa? che cosa? che cosa? Se ne è andato con noi Se ne è andato con noi Se ne è andato con noi Come diceva l'altro No noi siamo colto qui bene Il tipo davanti a noi Se ne è andato Forse no Oh ma No ma che cosa cazzo Pensavo che riusciva a messo Perchè Perchè Super Mi diamo una 10 e 2 5 Oppure tutte e 5 Se ne puoi fare nulla Ma stai ancora Papà E ora vediamo dopo Non è già meraviglia Sì Sì Ce la fai a guardare tutte e tre? Sì Io me la porto Ma io posso guardarle Ah boh però ho visto che arrivano Ma arrivano veloce Sono più veloce Sono tutti sessisti non cambiano No le ho vado a chiedere in banca Ma in banca Come minuscola Sì Stai Gianfranco Gianfranco Ah eccolo Me li hanno cambiati Ho chiesto In una rosticceria In un ristorante alto locato Poi ho chiesto a due ragazzi sul muretto E me l'hanno data Perchè ti hanno mostrato? Me li sono cambiati al distributore Però poi mi sono ricordato che il distributore è bangolata e non le dà Attenda quando pieghi eh Perchè? Per la voglia sulla bomba Eeeh dal silenziatore Ma? Ma c'è sta Non fa niente No 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 non fa niente Vai fai ventina Fai ventina non succede niente Ferma Buono Ah no Vai un altro pochino no Aspetta Mantieni Uh gettoni Che ti viene? Vogliamo levare questo pezzo da qua sopra? Tu non hai per gli uccelli? Infatti Veramente? Sì per gli uccelli Forza Tu sai che fai di solito? Sì no non è vero Non ci capisci già ormai Mamma tengo la fame Come vado giù? No no Ma ora dobbiamo tornare Oh di là penso E' tutto dritto? Tutto dritto arrivi in litorale Poi se vuoi andare a trovare i tuoi amici io no Non viene a battipaglia? Come non? E allora? Se vai dritto vai in litorale Eh? Ma perché dritto? Ma perchè dritto? Tu vedevi provare a andare dritto Vabbò Grazie Grazie Quello che voleva venire a prendere Lo so Che ha detto? No niente Ehm Non ho solo detto che dovevo fermar Non dovrei scapparlo Mamma aiuto Ogni volta che una macchina sferma quando scendo Panica Io sono sicuro che tra poco arriverà qualcuno che mi scasserà di mazzato Sì Ma secondo me un giorno tutta la gente a cui ho fatto un minimo di torto arriverà Non so che batteri sta cosa Come ti le batteri Che mi guardi ridendo Che mi guardi ridendo Che cosa guardi Chiara amica mia ho preso qualcosa da Eh vabbè Ciao 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 Ciao